Signori, cosa... mi viene da ridere veramente per non piangere, ormai non c'è più speranza. E' ufficiale, ufficiale, sono quelle cose che poi uno elabora nei giorni. Chiudo il computer che decolla, forse per una delle ultime volte, perché vedremo poi che senso ha seguire così assiduamente, con così tanta sofferenza, con male fisico, psicologico, una squadra che non ha fatto nulla. Io lo dicevo, finita la live, tra l'altro vi ringrazio, siamo arrivati quasi a mille spettatori, è stata una live bellissima che avrebbe meritato un esito diverso. Lo dicevo a fine live, cioè c'è da segnarsi i nomi di tutte le merde che hanno giocato, mi dispiace, uso questi termini forti, ma vanno usati ragazzi, perché gli undici, e adesso poi ci arriviamo, bisogna segnarseli e fare in modo che non mettano mai più bene in campo, ad eccezione, fatto eccezione di Carboni, Altare, che quelli chiaramente sono degli incolpevoli, ma tutti gli altri devono essere bidonati, devono essere venduti, svenduti, e se possibile licenziati dal ruolo, perché allora a questo punto ragazzi, anche io mi propongo come calciatore, io voglio vedere, datemi una preparazione da giocatore da Serie A e voglio vedere se corro così poco nel primo tempo come ha fatto il Cagliari, perché il problema è stato quello. Il Cagliari non ha corso per tutto il primo tempo. Poi cioè, vogliamo parlare, poi vabbè adesso arriva, era un'invasione di tifosi della Salernità, ma ci sta, ma voglio dire, cioè ci siamo provocati a vicenda, è stato bello, mi sono divertito sinceramente, ma io, cioè, ma voi vi rendete conto, vi rendete conto che si abbiamo aspettato il settantasettesimo, no l'ottantesimo per mettere Gastone e Keita, Cristo Dio, per mettere Gastone e Keita e siamo rimasti con due punte sino all'ottantesimo, contro una squadra già retrocessa, dove il secondo tempo fondamentalmente non hai avuto nessuna occasione contro, cioè, ma io veramente... Anche impegnandosi, cioè, c'è da segnarsi i nomi e fare in modo che non mettano mai più i piedi in campo. Ma qua ragazzi ci stiamo veramente parlando di prese per il culo importanti e anzi, io fossi in qualche tifoso del Cagliari spingerei anche per l'apertura di un'inchiesta perché c'è da capire qui veramente, qui c'è veramente da capire. La rabbia più grossa è che dall'altra parte l'Udinese ha fatto la sua partita e come se l'ha fatto, io ve l'avevo detto, io ve l'avevo detto, io ve l'avevo detto, più che dell'Udinese io ho più paura per il Cagliari. Ma cioè, ma vi rendete conto, Cristo Dio? Ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto che cazzo è successo oggi? Con la Salernitana che perdeva 4-0 all'inizio secondo tempo e il Cagliari non è riuscito a fare un tiro in port... Cioè, non un tiro, non è riuscito a... Ma più o meno. Non è riuscito a fare un gol contro il Venezia. Ma di cosa stiamo parlando? E poi mi devo anche subire quella presa per il culo, vergognatevi, di tutti i giocatori per terra. Siamo ritrocessi, no, mi chiedo troppo di... Ma andatevene a cagare, va che avete preso i peggio milioni. Marin, guarda, io veramente ti disprezzo. Ti disprezzo in tutto, come persona, come giocatore, come tutto. Anche come persona, mi stai proprio sui coglioni. Ciao, Pedro, guarda. Sei veramente una disgrazia. Sei veramente una disgrazia, una brutta condanna che ci siamo subiti. Sì, non mi rompete i coglioni con la storia, il secondo mar... Ma andate a cagare, va il secondo marcatore della storia. Uno scarpone simile, veramente, mai visto. Allora, visto che per voi sono tutti fenomeni, allora oggi c'erano Rog, Nandez, Marin in campo, c'era Grassi, c'era Giovedro, c'era Belanova, e contro questo Venezia non riesce a fare un gol. Ma dai, ma veramente, guardate, siamo veramente un ammasso di merda. Ed è giusto, sportivamente, che si scenda, perché poi tolte tutti i discorsi sulla Salernitana, che la buttiamo in cacciara, rubano, rubano... Ma dai, ma ci siamo veramente dei buffoni. Siamo veramente dei buffoni e meritiamo tutti gli sfottò che arriveranno. Meritiamo tutti gli sfottò che arriveranno. Meritiamo tutti gli sfottò che arriveranno. Io non voglio più vedere nessuno di questi vermi il prossimo anno. Io non ne voglio più vedere nessuno. Mi dispiace, mi dispiace. Mi dispiace, da domani, io l'avevo detto, l'avevo promesso. Che sia Serie A o che sia Serie B, faremo sentenze. Faremo sentenze. Mi dispiace che per i ragazzi a Venezia, ho visto dei bambini che piangevano, ed era stato veramente un qualcosa che mi ha toccato. Mi ha toccato perché, insomma, mi ricordo un po' me da piccolo, che vivevo le disgrazie delle prese per il culo degli sfigati, perché poi sono sfigati interisti, giuventini, milanisti di tour. Le vivranno anche loro. Voglio dire, essere tifoso del Cagliari non è facile. Adesso entriamo nei discorsi più filosofici, ma... Di che cazzo vi devo parlare? Cioè, ma di che cazzo vi devo parlare? Cosa vi devo parlare? Sono arrivato a parlarvi delle immagini che trasmette sto branco di veramente, non mi fate dire cosa, di Dazon. Sto branco di cetrioli di Dazon, veramente, dai. Ma su, sembra un mazzo di cetrioli. E poi esistono i mazzi di cetrioli, non lo so. Un mazzo di carpentieri sono quelli di Dazon. Cioè, vi sono arrivato a commentare le immagini di Dazon. Ma per forza, ma cosa vi devo dire? Ma cosa vi devo dire? Cragno che dopo un giorno d'andata imbarazzante si mette lì tutto piegato. Gio Pedro che lì senza parole, con sta faccia corrugata. Che veramente vergognati, guarda Gio Pedro. Io, ragazzi, vi giuro che quest'anno, quest'estate, farò crociate per mandare via dal cazzo Cragno. Gio Pedro e Marin. Voi vi direte che sono i più forti, ma andate a cagare, veramente. Guardate. Allora, io ve lo dico. Io non banno nessun commento della Sanità, forse. Ma banno tutti i commenti che mi scrivono ancora e Marin, e Marin, e Marin, e Marin. Marin ci ha avuto un tempo per incidere. Cristo Dio. 10 milioni è stato pagato. Non ha azzeccato un cross manco morto. Abbiamo fatto 10.000 cross. Non si è fatto un cazzo. Però Cherry faceva schifo, vero? Però Cherry faceva schifo, vero? Però Cherry faceva schifo, vero? Tra Moni che ha segnato stasera, col Brescia faceva schifo, vero? Fanno sempre tutti schifo per voi. Fanno sempre tutti schifo per voi e per la dirigenza. E anche per me. E poi alla fine invece sono proprio quelli che fanno schifo che ci hanno salvato gli anni scorsi. Gaston Pereira ha messo a 10 minuti dalla fine e ha fatto più di tutti gli altri messi assieme. Poi ripeto, è una cosa che realizzeremo... A breve, io ancora non l'ho realizzato. Un mal di testa clamoroso. Devo cagare in modo clamoroso. Un mal di pancia terribile. Veramente, mi viene da sotterrarmi vivo a tratti. Non voglio instigare al suicidio nessuno, però... Veramente un qualcosa di... Un qualcosa di... Di terribile. Cioè, che cazzo vi devo dire? Qualcosa di bello, no? Un qualcosa di terribile. Qualcosa di terribile. Un qualcosa di... Incommentabile. Incommentabile. Io il prossimo anno voglio che si riparta da un giocatore come Gabriele Zappa, che è un giocatore che abbiamo... Ma no, io no. Io mi tolgo, scusate, ma mi devo togliere. Che avete schifato? Che quando è entrato quest'anno ha sempre fatto bene? Bisogna ripartire da lui, dagli Alberto Cerri, dai Tramoni, dai Lubumbo, dai Curfalidis. Pure Rog e Nandez, se non sono più in forma fisicamente, se questi infortuni li hanno lacerati troppo, fuori dal cazzo. Anzi, Nandez fuori dal cazzo subito, perché è da anni che se ne vuole andare, piuttosto che perderlo a zero, ma andiamolo via. Rog, se non ha la gamba, fuori dal cazzo anche Rog, mi dispiace, ma se Rog deve rientrare, non l'avrei rischiato queste giornate. Ma perché non hai messo Baselli? Cioè, io adesso... Adesso io dicevo anche questa cosa con gli altri ragazzi, ma... Io adesso io non voglio dare... Nessun... Allora, le colpe sono completamente del signor Giulini. Che è veramente... Vergognati, Giulini. Ma io mi chiedo, ma come cazzo fai a mettere Gaston Pereira e Kate agli ultimi dieci minuti e a non mettere Baselli? Cioè, che era l'unico che dava un minimo di palleggio e tu non lo metti. Rimango senza parole. Io Grassi l'avrei tolto e mi avrei messo Baselli, che dà un po' più di palleggio. O meglio, magari non avrei messo subito Marin. Io avrei messo subito, inizio secondo tempo, Baselli e Pereiro. Io l'ho detto in live, quindi non parlo con il seno di poi, ma io mi chiedo, boh... È stato veramente un tripudio generale, un devasto generale, Siamo in serie B. Siamo in serie B, boh... Io devo ancora realizzare... Lo continuo a ripetere perché non mi entra in testa e adesso non è anche quella sensazione proprio di morto. Di morto. Cioè, mi sento ancora così... così instabile mentalmente, ma non morto. Magari stanotte, domani, mi risveglio con l'abito di legno, mi risveglio freddo, da un lato spererei e non ci sentiremo mai più. In tal caso, la mia eredità passa completamente a Pietro Pani. Detto ciò... Niente, niente. Cosa volete che vi dica? Inizieremo a fare i processi, analizzeremo la serie B, il canale morirà, ma a me non me ne frega un cazzo. Voglio che questo canale muoia, fallisca, come il Cagliari, ok? Falliamo, Giulini, Vendi, vergognati. Un bacione, ciao a tutti. L'ultimo video in Serie A del 2000... Oddio, non siamo più in Serie A, però... Dai, del campionato 2021-2022. Si è concluso veramente, ma... Un bacione. Ciao ragazzi.